Angela Todaro, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il romanzo intitolato Il tocco di Persefone, pubblicato dalla casa editrice di Antonio Mandese. Ora, a noi piace particolarmente raccontare le piccole case editrici. Angela Todaro, ci vuole raccontare brevemente la sua casa editrice, Antonio Mandese? È una casa editrice giovane, perché Antonio è un ragazzo che ha deciso di intraprendere questa strada perché lui è cresciuto e vissuto in mezzo ai libri. Lui in realtà appartiene a una famiglia storica, soprattutto per la città di Taranto e per Il Sud, che è appunto l'amandese editore, però lui ha deciso di seguire adesso la sua strada. E quindi si guarda intorno scoprendo nuovi talenti, cercando di valorizzare al meglio la cultura, ma proprio la cultura del libro, quindi dell'artigiano. Lui ha questo di particolare, la caratteristica dell'artigiano del libro. Sono felice di appartenere alla sua scuderia perché è un editore puro, appartiene a quell'editoria vera di un tempo dove si cerca l'artista, il talento e si scommette tutto per farlo conoscere e insomma farlo imporre all'attenzione di chi ama leggere. E questo è molto importante, soprattutto questo senza nulla togliere alle grandi, grosse case editrici, ma la piccola case editrice ha un terreno di ricerca veramente molto interessante. Leggo nel risvolto di copertina che Angela Giovanna Todora è una scrittrice archeologa, alterna l'attività di scrittura con quella di studio e ricerca. In che modo si è scrittori ed archeologi nello stesso tempo, Angela? Diciamo che vanno di pari passo. Io quando ero ragazzina avevo un sogno, avrei voluto diventare Indiana Jones per cui mi vedevo a bordo di un elicottero ad esplorare luoghi che nascondevano tesori della storia umana. Ovviamente tutto questo non si è realizzato, o meglio si è realizzato in parte, perché crescendo si fa i conti con la realtà, si capisce che quella era insomma la scena di un film, però il mio percorso di studi è stato quello. Io sono laureata in lettere classiche, indirizzo storico archeologico, per un breve periodo ho fatto anche l'archeologa. Poi ho scoperto la scrittura che era un'altra mia passione, per 15 anni sono stata giornalista e ad un certo punto ho cominciato a guardarmi intorno, meglio mi è venuta a cercare l'insegnamento. I miei genitori mi avrebbero voluto da insegnante già da subito, ma io non mi sentivo pronta. Per cui diciamo così, alla maturità ho scoperto questa passione e sono riuscita a coniugare le due, anzi le tre cose, perché continuo a studiare l'antichità, che resta comunque la mia passione, e la trasferisco ai miei alunni e del terreno per me fertile per creare sempre nuove storie, perché tutto ciò che scrivo parte dalla storia, qualcosa di reale, in genere legata al territorio che io vivo, sul quale io vivo. Sì, e infatti proprio partendo dal territorio dove vive Angela Todaro, si scopre l'origine di questa storia, il tocco di Persefone. È un romanzo giallo, è un romanzo che si sviluppa per circa 330 pagine, ma Angela, partiamo dall'immagine di copertina. Esatto, quello è un dipinto famoso, ma è stata una scelta dell'autore, perché voleva legare, avremmo potuto mettere direttamente la statua della Persefone in trono, che è la protagonista vera di questa storia, che alleggia in tutto il racconto, però abbiamo voluto scegliere un dipinto che legasse il passato al presente. Persefone che rappresenta il ligame tra la vita e la morte, tra ciò che apparentemente muore, ma poi risorge, e che è anche una rappresentazione della donna, della natura femminile, capace di dare la vita, ma allo stesso tempo, quando viene ferita in maniera profonda, riesce ad agire, o meglio, reagisce talvolta con violenza. Persefone era nell'antichità, regnava nell'oltretomba, era sempre vicino al suo compagno Ade, però qui si tratta di un lato della vita di Persefone, ma l'altro lato era che lei era figlia, spero di non sbagliarmi, di Demetra. Di Demetra. E quindi c'è da una parte la morte, ma dall'altra la vita, perché Demetra questo rappresenta, rappresenta l'agricoltura e non solo, rappresenta la coltivazione, in sostanza rappresenta la vita. Esatto, e Persefone è sostanzialmente la vita, lei rappresenta il chicco di grano, il chicco di grano che per una parte dell'anno è sottoterra, quindi al buio, e aspetta di germogliare e quindi di ritornare alla luce. E quindi questo passaggio continuo tra Ade e suo sposo, in realtà l'ha rapita, perché lei non è che ci è andata volutamente nell'Ade, è stato lui che si è innamorato di lei vedendola correre nei campi e l'ha rapita. La madre disperata l'ha cercata in lungo e in largo, e Zeus faceva un po' l'orecchio da mercante, perché ovviamente non voleva dispiacere il suo amico Ade, fino a quando Demetra ha deciso di giocarsi in tutto per tutto e ha smesso di far produrre frutti alla terra, affamando quelle che erano le creature predilette di Zeus, cioè gli uomini. A questo punto Zeus ha deciso di accontentare, o meglio di trovare un accordo tra Ade e Demetra e così alla fine per tre mesi all'anno Persefone e nell'Ade insieme a suo marito e per il resto dell'anno ritorna alla luce a vivere con la madre. Ovviamente questo è la raffigurazione trasposta nel mito di quello che è il ciclo della natura. E adesso andiamo tra Taranto e Locri e andiamo nel museo archeologico di Taranto, perché il luogo di origine della statua di Persefone leggiamo, di Persefone in trono, è da tempo oggetto di una diatriba per l'appunto tra Taranto e Locri. Come mai? Perché il suo rinvenimento è abbastanza controverso. In che senso? Lì dobbiamo andare a vedere le carte, ciò che l'epoca in cui è stata ritrovata la statua ci offre. Locri asserisce che quella statua sia stata ritrovata nelle sue campagne da un contadino e che poi di lì si è arrivata a Taranto. Questo è quello che appunto racconta questo uomo. Credo che ci sia stato proprio un vero e proprio processo nel 1980, però non c'erano, diciamo così, prove concrete a supporto di ciò che questo contadino asseriva. Al contrario, invece, all'interno degli archivi del Museo archeologico di Taranto c'è tutto l'incartamento che riguarda proprio la vera caccia al ladro che c'è stata all'inizio del 1900 dei trafugatori di quest'opera, di quest'opera archeologica che è stata rinvenuta perché poi gli autori vennero trovati, si raccontarono come si erano svolte le cose e questa statua è stata rinvenuta durante gli scavi di costruzione di un palazzo che si trova qui a Taranto perché Taranto è una città particolare, fino agli inizi dell'Ottocento è stata relegata su quella che noi chiamiamo Isola, la città vecchia perché c'era un'antica legge che vietava per questioni di sicurezza, per questioni militari vietava di costruire al di là di quelle mure, quindi di oltrepassare il ponte quando poi Taranto sarà scelta per diventare sede della regia marina militare si diede la possibilità di costruire al di là del ponte infatti all'inizio tra la fine del 1800 e 1900 è nato quello che oggi viene chiamato il borgo Umbertino che è il centro di Taranto praticamente, il salotto di Taranto ed è proprio in questo periodo che scavando sono ritornate alla luce tutte le vestigia sepolte ovviamente dal tempo della Taranto greca e quindi è in questo momento, raccontano le persone dell'epoca ma anche ripeto le carte del questore che si occupò di questa indagine della Guardia di Finanza queste carte raccontano proprio il rinvenimento di questa statua che venne occultato ovviamente perché da pochi anni era entrata in vigore un reggio decreto che vietava di impossessarsi di tutto ciò che si trovava all'interno del terreno che diventava invece di proprietà dello Stato e invece siccome per anni i mercanti d'arte avevano usufruito di tutto questo materiale preziosissimo che il terreno restituiva in quell'occasione gli operatori di quel cantiere occultarono immediatamente la statua e quindi un nuovo rapimento di Persephone non in carne ed ossa ma in marmo e venne portata di corsa in provincia di Taranto per nasconderla perché si venne a sapere subito questo rinvenimento perché gli operai che la scoprirono e la recuperarono ottennero ben poco in denaro dal cedere questa statua ai mercanti d'arte chi ci guadagnò davvero furono gli intermediari per cui queste persone accortosi dell'errore che avevano fatto andarono a denunciare il fatto e quindi da quel momento in poi ci fu una vera corsa a ritrovarla venne occultata nelle campagne addirittura sotto il letame e smembrata in diverse parti per evitare che venisse rinvenuta questa cosa tra l'altro ha provocato un danneggiamento della colorazione esterna della policromia che la statua aveva all'esterno perché aveva dei colori molto vivaci e però l'acidità dell'etame ovviamente ha corrotto il colore poi passato un po' di tempo circa due anni la statua è stata portata a Napoli lì è stata imbarcata su un piroscafo è spacciata come arredo da giardino di epoca barocca lì poi è arrivata a Parigi e poi è stata acquistata dopo la guerra dalla Germania e lì adesso si trova esposta al Pergamum Museum di Berlino un lungo viaggio per una lunga storia e adesso noi entriamo anche se Angela Totoro già ci ha fatto entrare in questa respirare l'aria di questa straordinaria figura andiamo a conoscere l'ordine di Persephone perché l'ordine di Persephone ha a che fare con un delitto ha a che fare con un delitto della madre guardiana un'insegnante di matematica e qui questa storia voi ascoltatori direte cosa c'entrerà mai la morte di questa guardiana in rapporto al mito di Persephone lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori i prossimi lettori però chissà se Angela Totoro ha il libro a portata di mano sì ce l'ho allora desideriamo ascoltare il testo che l'autrice ha messo in esergo con le parole di Alda Merini prego un attimo soltanto ricordo intanto che il libro il romanzo Il tocco di Persephone è pubblicato dalla casa editrice di Antonio Mandese nella colonna dei Gialli a firma di Angela Totoro l'ha trovato il testo? sì sì ce l'ho qui a tutte le donne a tutte le donne perché questo libro ovviamente è per tutti ma è dedicato a tutte le donne che ogni giorno affrontano la vita in tutte le sue sfaccettature fragile opulenta donna matrice del paradiso sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore il canto d'amore ma qui c'è anche un canto di morte e poco fa parlavo di omicidio ma il canto d'amore e rispetto alla vita qui è difficile trovarlo in questo thriller storico dove qualcuno dovrà sviluppare un ragionamento intorno a queste morte inaspettate e allora c'è non c'è un investigatore ce ne sono ben due Angela Todaro sì ce ne sono due in quell'equilibrio che ritengo perfetto che è uomo-donna e quindi c'è l'uomo in divisa Tommaso Sartori è un carabiniere ma c'è anche una donna che è un insegnante quindi quell'equilibrio perfetto e viaggiando insieme si arriva a una soluzione fanno un viaggio entrambi entrambi investigano fuori sui delitti ma investigano anche dentro se stessi quindi cercare l'autore o gli autori dei delitti del delitto è anche un cercare la propria storia andare a fare i conti con i propri fantasmi con il proprio passato per sciogliere i nodi e riuscire poi ecco a venire fuori dal buio entrambi e ritornare alla luce così come fa Persephone prima dicevo un canto alla vita ma qui è un canto anche all'amore per i luoghi per la storia anche attraverso poco fa diceva Angela Todaro la figura di Tommaso Sartori quest'uomo che sì possiamo dire che un po' più o meno potremmo definirlo romantico e non è sicuramente un'accezione negativa ma perché no però anche lui si lascia portare dal luogo dalla città vecchia di Taranto perché i luoghi sono protagonisti in questo romanzo Angela Todaro sì assolutamente sono protagonisti Taranto in particolare al mondo la città vecchia non lo dico perché sono Tarantina ma è una sensazione che hanno tutti quelli che mettono piede su quello su quello scoglio diventato un'isola soltanto alla metà del 1800 perché prima era una penisoletta è un luogo magico è un luogo magico perché racchiude in così poco spazio secoli e secoli di storia e lo si avverte la luce è diversa in quel posto non sto dicendo una cosa folle ma è davvero così è perché il sole che va a colpire questi muri fatti di carparo il carparo è il materiale di cui è costituita la terra tarantina ed ha un colore giallo dorato e quando assorbe la luce solare fa dei particolari giochi di colori che mettono l'animo in un particolare stato c'è tantissima storia tra quei piccoli e si respirano quando si cammina lì in mezzo e diventa molto facile raccontare e ideare storie io ideare storie su quel luogo infatti quando devo decidere di creare qualcosa vado a fare una passeggiata in città vecchia perché l'ispirazione arriva immediata eh sì lei ha una consonanza con con Sartori sicuramente facendo queste passeggiate nella tarantovecchia in sostanza quello che ci racconta tra le molte cose questo romanzo il tocco di Persefone è che le donne sono sono figlie sono sorelle sono amiche sono complici di Persefone sì c'è un c'è una parte del libro in cui o meglio c'è la frase di un personaggio che chiarifica rende chiaro il concetto o meglio tutte le donne sono figlie di Persefone tutte le donne sono Persefone quindi questo desiderio di agire per la vita per fare la cosa giusta e questo si può fare se si agisce in maniera comune se ci si protegge se l'una aiuta l'altra se l'una la più grande passa alla più piccola il segreto della vita il dono di riuscire a superare le difficoltà di mettere ecco in equilibrio quelli che sono gli eventi della natura lo stesso ordine di Persefone si dice già all'inizio del testo non è una setta ma è una sorta di unione di patto fatto fra le donne ovviamente della storia che sono tarantine ma in realtà le donne sono eppure il fatto di essere considerato una setta ha nuociuto e non poco nello sviluppo di questa storia quindi lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori i prossimi lettori in questo romanzo che prende spunto dalla storia dalla mitologia nella profondità del tempo per arrivare a un tempo attuale nel conoscere nel vivere e nel conoscere la storia e nel conoscere anche un luogo come dicevamo poco fa attraverso questo romanzo il tocco di Persefone di Angela Todaro pubblicato da Antonio Mandese ma prima di salutarci qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora in questi giorni mi fa compagnia un altro testo molto bello ambientato nell'antichità anche questo dove l'ho messo non mi ricordo il titolo e adesso aspettiamo sì 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 eccolo qui eccolo qui non sempre si ricordano i titoli dei libri e gli autori no no io la verità io la verità non li ricordo quasi mai perché mi concentro talmente nella nella lettura e molte volte entro a far parte anche dei personaggi perché la particolarità della lettura è questa immedesimarsi e vivere la scena si chiama l'impresa di Pitea di Francesco Gioia è ambientato è ambientato in una taranto maglio greca è molto bello molto coinvolgente perché pur trattando di argomenti che si riferiscono a 2500 anni fa c'è una maniera di scrivere molto attuale e quindi sembra quasi di vedere l'antichità trasposta ai giorni nostri molto bello il libro l'impresa di Pitea il libro scritto da Francesco Gioia è pubblicato dalla casa editrice Libro Mania intanto noi ringraziamo Angela Todaro per il tempo che ci hai dedicato grazie e buona archeologia e buona scrittura grazie a voi buona giornata grazie a tutti